Continuano gli appuntamenti di Balding a Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. Il secondo incontro è stato dedicato ai temi di storia e politica, con la presentazione dei volumi al Paese di Utopia, di Tommaso Fiore, a cura di Marco Caratozzolo, edito da Stilo, e il Casomoro, Misteri e segreti svelati, di Nicola Lofoco, edito dal Gelsorosso. Al Paese di Utopia è un'originale testimonianza dell'intellettuale pugliese Tommaso Fiore sul mondo sovietico, ricca di interessanti osservazioni non solo sulla politica, ma anche sul paesaggio, e vita quotidiana di un paese che, superando la guerra fredda, comincia il suo percorso verso un'epoca di maggiore distensione. Sono particolarmente lieto di ripresentare questo libro, che era stato pubblicato da Tommaso Fiore nel 1957, l'editore Stilo lo ha ripubblicato, e rileggere Fiore dopo più di 60 anni, e ritrovare lo spirito così acuto di un visitatore, che non fu solo un visitatore, ma un visitatore critico di quella Russia, è particolarmente entusiasmante. Credo che possa esserlo soprattutto per le nuove generazioni, perché capiscano come la Russia sia un paese così vasto anche nei suoi cambiamenti. Il libro di Nicolà Lufoco fa riferimento alla tragica vicenda dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e dei suoi cinque agenti di scorta, avvenuto nel 1978. Nel libro vengono spiegate tutte le inesattezze che sono state la causa, secondo l'autore, di un'interpretazione complottistica della vicenda, analizzando tutti i particolari di questa dolorosa storia. È il frutto di un'indagine che dura da 15 anni, ho fatto un lavoro certosino su tutti i documenti presenti nella corte d'assise di Roma, dove ho potuto dimostrare anche documenti alla mano, che negli episodi più controversi di tutto il cosiddetto caso Moro, sono state dette per 37 anni troppe inesattezze e troppe cose non vere. Io sono dell'opinione che in realtà l'omicidio di Aldo Moro sia stato opera delle Brigate Rosse e che non vi sia stato alcun coinvolgimento di nessun servizio segreto. Dopo 37 anni sia giusto forse mettere una pietà che chiude definitivamente la vicenda perché, ripeto, secondo me non c'è più nulla da scoprire.